Potrebbero essere sei gli indagati per la morte di Andrea, il neonato deceduto a Rummo domenica mattina, due giorni dopo il parto e dopo ore di agonia nel reparto di terapia intensiva neonatale nel nosocomio Sannita. Oltre ai tre medici già destinatari di un avviso di garanzia e mista dell'autopsia, infatti in queste ore i carabinieri su delega della procura Sannita potrebbero infatti notificare altri tre avvisi ai professionisti presenti durante il complicato parto, tutti avvisati per consentire l'eventuale nomina di un consulente in mista dell'autopsia che verrà affidata giovedì pomeriggio a due medici legali. Come si ricorderà dopo un tentativo di parto naturale nel corso del quale sarebbe stata utilizzata anche la ventosa alla mamma, una giovane di Benevento sarebbe stato praticato il taglio cesareo, con il quale venerdì scorso il piccolo era venuto al mondo. Gravi le sue condizioni, che avevano reso necessario l'immediato recupero in terapia intensiva neonatale. Quelle successive erano state ore di enorme tensione tra la famiglia che aveva allestato i carabinieri e i medici. Uno di questi ha poi denunciato di essere stato aggredito all'interno dell'ospedale da uno dei parenti del bimbo. L'epilogo della triste vicenda all'alba di domenica, quando il cuoricino del piccolo Andrea aveva smesso di battere per sempre. Di lì una nuova denuncia dei genitori ai carabinieri della compagnia di Benevento.